Dunque, Unicusano, in che termini può servire e servirà al Val di Magra Volley? In che termini? Tanto cerchiamo di unire sport e diciamo tra virgolette cultura, che è molto importante. Noi abbiamo un gruppo, siamo un gruppo giovane, siamo tante società dove abbiamo tanti ragazzi e ragazze, giovanissime, quindi possono essere interessate oltre allo sport anche a questa università telematica e ci fa piacere avere stretto una collaborazione con un'università così importante a livello nazionale. Va bene, e che dire allora di quella che dovrebbe essere la interazione, chiamiamolo così, che si prospetta tra il Val di Magra Volley e il Learning Center e più in generale Unicusano? L'interazione è nata fondamentalmente dall'esigenza di poter consentire ai ragazzi che svolgono un'attività sportiva in maniera piuttosto pregnante, quindi piuttosto forte, di continuare comunque nel loro percorso scolastico. Il fatto di avere un'università telematica e quindi di poter comunque frequentare le lezioni da casa attraverso semplicemente un collegamento con il computer e quindi sentire le lezioni, studiare da casa, interagire in questo modo, consente sicuramente, permette agli studenti e ai ragazzi, agli atleti di poter anche coltivare quella che è la loro attività sportiva e quindi quella che può essere in questo momento la loro passione maggiore, senza però rinunciare allo studio. Il Learning Center è il polo, il center, che opera sulla provincia di La Spezia e governa i point di Reggio Emilia e di Piacenza. Alla Spezia opera un servizio di segreteria e un servizio di tutoraggio che segue gli iscritti, gli studenti che frequentano 11 facoltà. Gli studenti che appunto si iscrivono qui a Spezia praticamente hanno l'opportunità di frequentare l'università alla Spezia, sia per quello che riguarda il fatto di frequentare le lezioni che sono frequentate su una piattaforma telematica e poi possono sostenere l'esame qui alla Spezia presso di noi.